E' accusato di abuso d'ufficio e per lui è stato disposto l'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, ma Mario Oliverio si dice estraneo le vicende oggetto dell'inchiesta della DDA di Catanzaro. Io ho sempre improntato il mio impegno nella lotta alla criminalità organizzata, alla mafia, alla drangheta, all'affermazione dei valori della legalità e della trasparenza. Tra l'altro questa gara per un'opera pubblica, quella dell'impianto di Rorica, che è oggetto di questo procedimento giudiziario, è stata fatta prima che io arrivassi alla guida della Regione e non dalla Regione ma da un Comune. Anche successivamente i finanziamenti che sono stati accordati sono stati finalizzati al completamento dell'opera in una fase nella quale l'impresa era stata oggetto di provvedimenti interdittivi da parte della Procura e quindi con un'interlocuzione con un amministratore nominato dalla Procura per portare a compimento l'opera perché altrimenti l'opera sarebbe stata in balia delle onde, sarebbe stato un investimento appunto di milionario buttato nel deserto come tanti nel Mezzogiorno. Io anzi ho apprezzato l'atteggiamento della Procura che proprio per portare a compimento l'opera in quel momento ha nominato un amministratore giudiziario che è interlocuito con gli uffici della Regione. Punto. L'opera è stata completata, l'opera è stata attivata lo scorso anno, quest'anno gli impianti andranno in attività. Non capisco qual è la responsabilità del sottoscritto. Non è stata la Regione a fare la gara, non sono stato io ad indire la gara quando la gara è stata fatta perché è stata fatta prima che io arrivassi. Io l'impresa l'ho vista solo una volta in occasione di un sopralluogo che ho fatto sugli impianti perché mi sono preoccupato di seguire appunto che l'investimento andasse a buon fine. Non capisco perché questo provvedimento. Lei non conosce Barbieri. Assolutamente, io l'ho conosciuto Barbieri in occasione di un sopralluogo che ho fatto sull'impianto quando ero preoccupato che i lavori andassero a buon fine. Era stato fatto un tratto dell'opera, una fase dei lavori era stata realizzata, ma non lo conoscevo prima e non l'ho visto dopo. Ma questo non perché se l'avessi visto prima o dopo non cambiava nulla, chiaramente. perché io ho solo avuto la preoccupazione a un certo punto di portare a compimento un lavoro che era stato appaltato precedentemente alla mia elezione e fare in modo che si potesse portare a buon fine e lo abbiamo portato a buon fine grazie all'amministratore nominato dalla stessa procura che mi ha contestato questo reato di abuso d'ufficio, non di mafia, per la verità. Il Presidente della Regione Calabria si dice indignato e annuncia di volersi battere fino in fondo per ristabilire la verità. Sono indignato perché credo che questo modo di procedere è assurdo. Io ho speso la mia vita per affermare la crescita nella democrazia, nella libertà e nel contrasto alle criminalità, le criminalità di ogni tipo, all'andrangheta, alla mafia, per affermare la legalità, per affermare i diritti delle persone. Sono indignato e per questo ho dichiarato lo sciopero della fame perché il migliore alleato della mafia sono i polveroni, sono coloro i quali si eriggono a paladini del contrasto alla criminalità, siano collocati nella magistratura, nella politica, nella società, ad ogni livello perché non ci sono praticamente paladini da questo punto di vista. Un paladino c'è ed è Gesù Cristo che è al di sopra di tutti. Non ci sono divinità su questa terra. Bisogna appunto rispettare e bisogna approfondire, bisogna valutare bene quando si assumono iniziative. E io mi permetto di dire che ho la coscienza a posto e ho soprattutto la consapevolezza di avere speso una vita per contrastare la criminalità e non accetto da chi che sia appunto che possa essere infangata la mia vita, il mio impegno politico dedicato al bene comune. Non lo accetto questo, non lo accetto da nessuno. Solo Gesù Cristo può giudicare. Non lo accetto da nessuno e mi batterò fino in fondo, senza timori, perché nessuno può pensare di intimidire. Senza timori, fino in fondo.